ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video terza parte del discorso del fotovoltaico domestico con accumulo integrato canadian solar epi cube l'abbiamo installato abbiamo attaccato tutto eccetera ok adesso vi faccio vedere come si attiva l'impianto lato installatore come si fa il commissioning o commissioning dove praticamente inseriamo i moduli tutto quanto una procedura velocissima basilare che si fa con app app che dovete scaricare prima si chiama epi cube dovete registrarvi come installatore allora poi potrete gestire tutta l'attivazione dell'impianto ora ci spostiamo sul sistema e vi faccio vedere i pochi semplici passaggi dunque per fare il commissioning la prima installazione l'avviamento della macchina dobbiamo chiaramente essere connessi per lo meno al grid l'inverter si attiva le notate perché si accende il modulo iot per la connessione se non li abbiamo ancora messi oppure rimuoviamo i coperchi laterali dove vediamo il qr code dell'inverter i qr code delle batterie ma anche della base che è una parte attiva del sistema apriamo quindi l'app epi cube dove al momento non abbiamo nessun impianto aggiungiamo un dispositivo scegliamo la zona italia bisogna avere l'interruttore di stringa spento e l'eventuale pulsante di arresto emergenza non premuto fatto diamo un nome al dispositivo e lo chiamiamo fotovoltaico casa in questa schermata come vedete c'è il simbolo per inquadrare il qr code partendo dall'inverter per poi chiudere con le batterie la base quindi facciamo semplicemente la scansione dando il consenso dell'inverter e vedete che viene preso diamo la scansione della prima batteria dovete tirare su la maniglia e viene presa la prima batteria facciamo la scansione della seconda batteria viene presa la batteria vedete che manca un pezzo non ci fa andare avanti perché comunque bisogna chiudere la colonna col basamento quindi facciamo la scansione anche del basamento a questo punto abbiamo preso il core code di tutto quello che serve andiamo avanti posizione del dispositivo italia mettiamo stato provincia in questo caso siamo a torino codice postale mettiamo pure il cap fuso orario dell'europa centrale va bene andiamo avanti bisogna attivare l'interruttore cia abbiamo dato il nome a questo punto possiamo collegarci siamo collegati direttamente in bluetooth andiamo avanti in questo caso il mio wifi è già configurato perché sto rifacendo la configurazione per girare video altrimenti bisognava semplicemente scegliere il punto di accesso le ss id della vostra rete wifi dare le password e andare avanti vedete che c'è da fare un aggiornamento prima di farlo bisogna assicurarsi che sia in rete collegato al wifi e che rimanga alimentato ci andranno circa 5 10 minuti facciamo assolutamente l'aggiornamento programmazione lui va avanti lo lasciamo terminare ok sono passati circa 5 minuti aggiornamento completato entra in epi cube entrando in epi cube abbiamo un altro aggiornamento da fare quindi facciamo anche questo aggiornamento completato andiamo avanti suggerimenti collega prima dispositivo bluetooth ricolleghiamoci siamo collegati sezione numero 6 siamo già alle impostazioni di rete quindi standard della rete italia possiamo già fare l'auto test ma vi farò vedere più avanti nel video come farlo anche in un secondo momento limite di potenza di rete e lo impostiamo a 6 kilowatt e qua possiamo subito scegliere se fare esportazione e anche con che potenza esportare io invece lo configuro senza esportazione effettuato con successo configurazione data e ora andiamo avanti qui abbiamo l'attivazione della garanzia che richiede l'email del proprietario ma deve essere già registrato altrimenti lasciate il campo vuoto per andare avanti caricare un'immagine una descrizione dell'impianto si va avanti questa cosa si può fare anche poi in un secondo momento completato la garanzia sarà attiva dopo l'approvazione in questo momento siamo già collegati al nostro inverter vediamo già l'applicazione bisogna accenderlo con il pulsante laterale diventa blu l'impianto va in funzionamento normale sta già alimentando la casa tramite la batteria non ci resta che armare l'interruttore generale delle stringhe a questo punto possiamo mettere tutti i coperchi l'impianto è partito vedete che stiamo producendo dal solare ma adesso poi analizziamo meglio l'app ep cube installato bellissimo già perfettamente funzionante ora vi faccio vedere tutta la parte smartphone perfetto sistema attivo sta funzionando una volta che ce l'hanno piazzato che l'avete installato cosa rimane da fare nulla perché chiaramente fa tutto da solo possiamo però chiaramente tenere sotto controllo tutto l'impianto tramite applicazione applicazione che è molto semplice snella si vede bene sia su telefono che eventualmente su un tablet per avere tutta la casa sotto controllo ma tra un po vedremo anche l'interfaccia web da pc l'altro installatore dobbiamo quindi inserire l'email del cliente che deve a sua volta creare un account come utente finale e poi l'applicazione è praticamente la stessa quindi apriamo la nostra app ep cube e troviamo questa interfaccia molto semplice leggera molto ben visibile dove abbiamo sotto controllo tutto perché abbiamo semplicemente questo diagramma blocchi circolari dove abbiamo a sinistra la rete a destra il solare e in basso la casa in mezzo ci sarà il nostro accumulo ad esempio adesso cosa stiamo vedendo vedete che c'è un flusso che dai pannelli va verso la batteria che va in casa perché in questo momento non stiamo prendendo da rete non stiamo neanche esportando altrimenti ci sarebbe la freccia che torna indietro verso la rete se state esportando cosa ci dice il valore scritto in verde sotto solare ad esempio ci dice che oggi abbiamo prodotto 2.47 kilowattora che oggi la casa ha consumato 3.70 kilowattora e che oggi ho prelevato da rete 0.14 kilowattora cosa sono questi 0.14 sono dei piccoli consumi che ha comunque l'inverter perché magari quando c'è lo spunto di un carico eccetera preleva per un attimo qualche watt per non gravare tutto sull'inverter e poi c'è un minimo di autoconsumo dell'inverter che hanno tutti gli inverter sono quei pochi watt che preleva dalla rete quindi questo non sarà mai uno zero tondo se poi oltre a questi valori che vedete istantaneamente tappate ad esempio sul solare mi dà il valore istantaneo quindi dc 1.59 kilowatt vuol dire che in questo momento stanno producendo i pannelli 1.59 kilowatt è un dato aggiornato a pochi secondi stessa cosa se vado sulla casa in questo momento la casa sta consumando 0 43 anche su rete se lo tappo in questo momento stiamo consumando 0.00 la batteria e mezzo non ci dà altre informazioni se non il fatto che si sta caricando e che attualmente è al 32 per cento ossia 2.17 kilowattora poi qui sotto abbiamo il fatto che è impostato in modalità autoconsumo dove possiamo gestire l'energia appunto che verrà tenuta di riserva per il backup dove possiamo impostare dei momenti di ricarica o meno dalla rete se abbiamo dei costi differenziati e se stiamo caricando le batterie con la rete rapporto di contributo epicub 97 per cento indica quanto del fabbisogno energetico giornaliero viene fornito dal sistema rispetto ai consumi totali più è alta questa percentuale meglio è stato di funzionamento normale se tappiamo sopra non abbiamo avvisi non abbiamo guasti stato della comunicazione in linea quindi il sistema è connesso e qui stiamo vedendo tutto quanto poi qui sotto abbiamo la possibilità di avere accesso ai dati che sono divisi per giorno mese anno o totali quindi se andiamo nell'anno in corso 2024 mi dice ad esempio che su 90.63 kilowattora abbiamo preso dalla rete 5.78 kilowattora che abbiamo generato 1164.22 kilowattora e che abbiamo consumato 1051 kilowattora qui sotto abbiamo un grafico che possiamo personalizzare andando a escludere il solare piuttosto che i consumi piuttosto che quello che abbiamo prelevato da rete ci dà un rapporto di contributo una riduzione della deforestazione eccetera grafico che possiamo ingrandire anche con app a schermo intero e che possiamo visualizzare tranquillamente nel totale nel mese scegliendo il mese qua sotto dallo scorrimento e quindi abbiamo il pieno controllo di tutto quello che è successo praticamente da quando l'abbiamo installato vedete che a lui ho avuto un grosso calo semplicemente perché l'impianto non l'ho usato ne ho affiancati altri insomma faccio sempre esperimenti poi abbiamo la voce assistenza dove abbiamo un form per mandare direttamente una richiesta e poi ci sono le impostazioni che chiaramente è una parte legata all'installatore dove possiamo impostare i dati dell'installatore la configurazione di bluetooth e wifi la possibilità di fare aggiornamenti poi abbiamo la possibilità di fare una nuova installazione o di fare una riconfigurazione oltre agli avvisi alla lingua chi siamo eccetera se noi andiamo in riconfigurazione e andiamo su configurazione della rete andando avanti ci colleghiamo direttamente in bluetooth io adesso ce l'ho qua vicino e prende tutte queste cose le possiamo fare direttamente in bluetooth non collegati col wifi vedete che compare la possibilità di cambiare lo standard di rete il limite di potenza dalla rete l'esportazione o meno è la possibilità di fare l'auto test qui abbiamo la possibilità di impostare l'esterno 1 l'esterno 0 locale 1 locale 0 andando poi a far partire l'auto test qui sotto con la voce auto test farà tutti i controlli del caso a fine test qui sopra in alto a destra abbiamo la possibilità di scaricare un pdf che comparirà in questo modo con tutti i dati molto molto comodo da girare eventualmente per la pratica di allaccio tutto assolutamente veramente molto molto bene molto molto semplice se volete provare l'applicazione per vedere come funziona io in questo caso mi disconnetto dall'applicazione se l'aprite in modalità appena installata vedete che qui sotto avete la possibilità di fare accesso creare un accanto o accesso del visitatore dove vi fa vedere un facsimile di un impianto in funzione per capire come funziona e poterci smanettare in anticipo tutto questo poi è gestibile anche per quanto riguarda l'installatore da piattaforma web e ora ve la faccio vedere una volta fatto l'accesso al portale e vi lascio l'indirizzo anche di questo portale in descrizione vi logate con le credenziali da installatore e sostanzialmente avete una panoramica generale nella pagina utenti e dispositivi avete tutti gli impianti che sono stati installati e di cui avete la gestione quando andate in home scegliete un impianto avete questa visualizzazione dove abbiamo la nostra bella casa con quello che ha prodotto il solare quello che sta producendo quello che è stato consumato e quello che si sta consumando al momento la situazione dell'accumulo e la situazione del prelievo o esportazione dalla rete abbiamo la possibilità di cambiare la modalità di lavoro da autoconsumo alle altre la possibilità di avere la configurazione di rete dove possiamo abilitare o meno l'export non si può fare dal portale l'autotest qui sotto abbiamo tre voci che sono la scelta del dispositivo lo storico dove ci dà tutta la situazione degli allarmi eccetera raggruppata oppure se andiamo in dettagli qui abbiamo tutte le informazioni di sistema dettagliate tutte le varie versioni di firmware abbiamo tutte le informazioni dell'inverter con i grafici della tensione di rete delle tensioni di inverter delle frequenze eccetera le temperature del radiatore dell'armadio e dell'induttore le informazioni del campo fotovoltaico le informazioni della parte a c è soprattutto una cosa molto importante in questa parte qua abbiamo le informazioni sulla batteria quindi di ogni batteria ci dice la data di produzione la data di installazione capacità energia efficienza autoscarica la resistenza l'energia della batteria la capacità e il numero di cicli completi equivalenti abbiamo un controllo generale qui sotto poi abbiamo un grafico con anche le tensioni delle celle la tensione media eccetera eccetera un controllo totale anche per quanto riguarda la situazione delle batterie fatta molto bene come è fatto molto bene il sistema l'abbiamo visto nei vari video è fatta molto bene l'app è fatto molto bene tutto quanto quindi un sistema al quale ho dedicato molto tempo per testarlo proporvelo e raccomandarvelo perché funziona molto bene non abbiamo ancora analizzato la funzione di backup non l'abbiamo testata vi faccio vedere come funziona impianto che come vi avevo detto nei precedenti video va comunque collegato con un quadro di scambio o con il box che vendono direttamente come accessorio il concetto è avere un quadro con un sistema di ats di backup che fornirà al vostro installatore o che dovrete installare voi comprandolo certificato o certificandolo voi in questo caso adesso non guardate il casino perché qua è sempre un work in progress abbiamo un sistema con una segnalazione presenza rete un contattore n a n c che fa lo switch quindi nel momento in cui viene a mancare la rete che possiamo simulare tirando giù generale lo switch passa automaticamente sulla morsettiera di backup dell'epicube vi faccio vedere in tempo reale l'intervento vedrete sicuramente un piccolo calo delle luci ma questo dipende dal tempo di intervento del sistema di switch non dal fatto che venga interrotta l'uscita da parte di epi cube vi faccio vedere semplicemente cosa succede notate in questo display che abbiamo un consumo di 2 3 4 watt eccetera questo è l'autoconsumo dell'inverter togliamo grid togliamo la rete ok avete visto che è andata un secondo via la luce è intervenuto il modulo di switch si è spenta la spia presenza rete epi cube in questo momento sta lavorando in modalità di backup senza nessunissimo problema ve ne accorgete anche perché la luce blu lampeggia vedete in questo momento siamo in backup backup che però è un full backup perché non abbiamo nessunissimo problema a continuare ad alimentare tutta la casa alimentazione che sarà garantita dalla riserva nelle batterie ma anche dalla produzione fotovoltaica ora cosa succede quando poi torna la rete che in automatico lo switch torna ad alimentare la casa dal grid grid sul quale partecipa anche il nostro epi cube immettendo energia collegato in parallelo alla rete col suo mandato termico differenziale eccetera eccetera quindi ridiamo grid perfetto torna l'alimentazione presenza rete in questo momento la casa sta consumando circa 280 watt perché chiaramente l'epi cube deve rimettersi in modalità grid fa tutti i test del caso e ce ne accorgeremo quando la luce laterale non lampeggerà più e ce ne accorgeremo anche dal fatto che dalla rete non stiamo più prelevando questi 270 watt finché appunto torniamo alla condizione di luce blu fissa e chiaramente il consumo torna a essere prossimo allo zero in questo momento ha ripreso il funzionamento un grid normale ma in qualsiasi situazione in cui ci sia un blackout breve o lungo che sia noi siamo tranquilli perché abbiamo il nostro sistema che continua ad alimentare tutta l'abitazione allora vi faccio ancora vedere un dettaglio non da poco siamo assolutamente di nuovo off grid rete non c'è questi due fili fase neutro marchiati con lo scotch sono quelli che arrivano dal backup dell'epi cube vi faccio vedere che esce assolutamente monofase con una bellissima tensione di 229 volt ac ci ho fatto andare a casa mia per tutto questo tempo mai un problema mai nulla vi lascio in descrizione tutti i riferimenti per contattare canadian siamo arrivati a fine di questa miniserie spero di avervi portato un contenuto interessante ne faremo altri e questo è quanto un bel like se vi è piaciuto il video mi raccomando che non costa nulla noi ci vediamo la prossima miniserie prossimo video singolo prossima diretta se passate negozio per un caffè le solite cose quindi grazie ciao a tutti da massi dattoli